Con Andrea Zamoni, presidente del PGS Lauda, padrone di casa nella settima tappa del circuito Geosec Mini Volley, gli chiediamo innanzitutto un parere su come sta andando il torneo. Secondo me il torneo sta funzionando molto bene, la grande visione dei bambini e delle società è sinonimo di buona riuscita. Noi siamo molto contenti, quest'anno è il primo anno che facciamo questa esperienza, sicuramente la ripeteremo anche negli anni prossimi, quindi siamo molto contenti. Direi che anche lo spettacolo che alle mie spalle sia assolutamente positivo. Le difficoltà e eventualmente le complicazioni che hanno accompagnato la prima volta da organizzatori? Diciamo che grosse difficoltà personalmente non le abbiamo avute perché qui all'interno dell'istituto dove facciamo svolgere la nostra attività come PGS siamo riusciti a creare un gruppo di ragazzi e un gruppo di atleti che danno una mano, una grande mano alla nostra attività, quindi si sono rese disponibili per montare i campi, per segnarli, per andare a prendere la roba, montare le istruzioni, quindi voglio dire che con l'aiuto di loro ci hanno semplificato notevolmente la vita. Quindi già che ci siamo, se vuoi aggiungere qualche altro ringraziamento particolare? Sì, sicuramente devo ringraziare l'istituto Salesiano, devo ringraziare perché ci permette di svolgere queste manifestazioni e poi devo ringraziare tutti i nostri allenatori, i nostri ragazzi che si sono prestati a fare gli arbitri. È veramente un gruppo molto molto bello e mi piacerebbe che i commenti di promozione sportiva la PGS potesse avere un maggior sviluppo. Ecco, questo è quello che mi impegnerò nel futuro. Perfetto, grazie mille di tutto. Grazie a voi.